La quaresima del Venezuela, il titolo della puntata di oggi prende spunto dal fatto che in Venezuela è già Natale, dal primo ottobre sono iniziate le feste natalizie ed è evidentemente una mossa politica di Maduro per migliorare il consenso tra la popolazione, già l'anno scorso aveva anticipato le feste. È solo lo spunto da cui partiamo per parlare della crisi del Venezuela, dopo le elezioni di quest'estate molto discusse e molto combattute, quello che sta succedendo appunto nel paese sudamericano. E quindi benvenuti a Mappamundi e benvenuto a Federico Larsen. Ciao Federico. Ciao Alfonso, come va? Grazie mille per questo collegamento. Ma figurati, grazie a te. Io ricordo che tu sei un docente giornalista italiano, collabori appunto all'IMES per il Sud America, area del mondo che, mi scuso, trattiamo molto poco all'IMES e quindi di conseguenza anche sul canale. Però insomma oggi cerchiamo un po' di recuperare. E allora, il Venezuela, quaresima è il titolo perché appunto più che le feste di Natale sembra invece un percorso nel deserto, un cammino nel deserto, un cammino nella crisi per il Venezuela. Che ne dici Federico? Guarda, io sono stato in Venezuela più di una volta ai tempi di Ugo Chavez e ricordo che una delle cose che più chiamava l'attenzione era il fatto che si trattava di una società estremamente consumista. Il periodo natalizio era un periodo in cui i venezuelani e le venezuelane riempivano le strade e compravano veramente di tutto. Io credo che un po' questa decisione di Maduro, di anticipare il Natale, che fa anche un po' sorridere, in realtà vorrebbe richiamare a quei momenti dorati di quella Venezuela capace di comprare tutto quello di cui aveva bisogno da mettere sotto l'albero giustamente a partire da novembre. Ora, perché è proprio adesso? Da una parte è vero, c'è bisogno di ripristinare in qualche modo il consenso eroso dalla campagna elettorale, il risultato delle elezioni del 28 luglio, ma soprattutto Maduro vuole dare una certa continuità a una piccola primavera economica che ha vissuto il Venezuela durante l'ultimo anno. Vediamo, ripassando molto velocemente i numeri, non voglio nemmeno annoiare troppo. Il Venezuela tra il 2013, cioè quando Maduro effettivamente vince le elezioni dopo la morte di Chavez, e il 2022 ha sofferto un tracollo del proprio PIL del 70%, dovuto ovviamente a questioni legate al mercato del petrolio, dovuto a una serie di decisioni veramente sbagliate da parte di Maduro, oltre alle sanzioni che hanno gravato l'economia venezuelana durante tutto questo periodo. A partire dal 2003 più o meno, l'economia venezuelana ha incominciato a vivere una piccola ripresa del 5% l'anno, più o meno, per quest'anno si sta pensando, le fonti ufficiali danno un 8% di crescita dell'economia venezuelana, l'inflazione è passata dal 190.000% su base annua del 2022, a un 90% di quest'anno. Maduro in qualche modo vuole mostrare che il Venezuela piano piano ha ricominciato la propria ripresa economica, dovuta anche e soprattutto a una serie di misure di stampo chiaramente liberista che ha preso il governo di Maduro, ad esempio praticamente la liberalizzazione del mercato del dollaro. Il Venezuela è da tempo un'economia informalmente bimonetaria, lo è diventata negli ultimi mesi anche in modo formale, ha aperto le importazioni, ha praticamente preso una serie di decisioni che contraddicono fondamentalmente la narrativa del socialismo del ventunesimo secolo che si è voluta instaurare durante l'ultimo periodo. Il Natale anticipato vuole essere in qualche modo una continuità un po' forzata della primavera economica vissuta negli ultimi due anni in Venezuela, che però non si sa se potrà continuare, giustamente perché dopo le elezioni del 28 luglio scorso a livello internazionale soprattutto si è creata una situazione di forte pressione sul governo Maduro, che molto probabilmente avrà nei prossimi mesi anche un risvolto dal punto di vista economico. Per ora la situazione è stabile, si mantiene stabile dal punto di vista economico, di fatto proprio negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno rinnovato la licenza di Chevron per poter continuare ad operare sul territorio venezuelano fino all'aprile del 2025. Però chiaramente la situazione politica farà in modo che l'economia ne risenta anche nei prossimi mesi. Allora, primavera sempre relativamente alla situazione economica degli ultimi anni in Venezuela, tu ricordavi 190.000% di inflazione, certo il 90% sembra un fattore molto positivo, però è sempre il 90%, in altre economie sarebbe vicino al tracollo. Però ecco, ricordavi, la questione politica è le elezioni del 28 luglio che sono state molto discusse perché, insomma, denuncia di Brogli, candidato dell'opposizione, Gonzales Rutia, che ricordiamola era stata, diciamo, impedito alla vera leader dell'opposizione di candidarsi e quindi l'opposizione aveva puntato su questo sconosciuto ex diplomatico che, insomma, secondo i sondaggi per elettorali, se tutte le indicazioni sembrava destinato alla vittoria. Poi invece, appunto, il risultato elettorale ha dato la vittoria a Maduro, insomma, con molte... questo risultato soprattutto non è stato riconosciuto a livello internazionale da molti paesi. Allora, poi torneremo, insomma, alle elezioni, anche perché a quelle elezioni, ricordiamo, si erano arrivati con un allentamento delle sanzioni americane, cioè sembrava, no, una distensione in corso con altri paesi della regione, quindi, insomma, era un passo importante di un processo più lungo. Però torniamo un attimo alla situazione politica attuale dopo, appunto, le elezioni. Cioè, Maduro riesce, insomma, nonostante appaia evidente a molti che abbia, insomma, truffato nel corso delle elezioni, riesce a mantenere comunque il controllo del paese e le dichiarazioni del, appunto, il candidato dell'opposizione, Gonzalo Surrutia, di tornare a gennaio per l'insediamento e prendere, quindi, insomma, ovviamente, lui si dichiara vincitore di queste elezioni. Ecco, è solo una dichiarazione di facciata, retorica o, insomma, è ancora in ballo il potere in Venezuela? Guarda, io direi che per ora non ci sono prospettive di cambiamento, perlomeno a medio termine, di un cambiamento di regime in Venezuela. In primo luogo perché, per questioni domestiche, esiste chiaramente una rinnovata unità molto, molto solida, e si è dimostrato anche nelle ultime settimane, delle forze armate, delle forze di sicurezza, dei servizi segreti venezuelani attorno a Maduro. Cioè, c'è un centro del potere a Caracas, che è gestito giustamente dall'elite del chavismo, dalle forze armate, dai settori di sicurezza, che non si smuovono in nessun modo, non c'è modo di rompere quell'unità. L'opposizione ci ha provato, in più di un'occasione, ha chiamato direttamente, ha fatto un appello alle forze armate a prendere il potere a destituire il governo di Maduro, lo ha fatto Juan Guaidó, già prima di finire il suo mandato piuttosto fatuo, che è finito un po' senza troppo successo. Lo ha provato a fare Corina Marciado di nuovo, subito dopo le elezioni del 28 luglio. Vladimir Padrino, che è il capo delle forze armate, ha chiarito immediatamente che non c'è nessuna possibilità che le forze armate prendano una strada diversa da quella del chavismo. E poi ci sono le condizioni dal punto di vista internazionale. In questo momento, perlomeno all'amministrazione degli Stati Uniti, non interessa l'instabilità in Venezuela, come non interessa neppure ai principali attori che sono oggi protagonisti della situazione venezuelana, che sono il Brasile e la Colombia, che sono i paesi più interessati nel mantenere una stabilità. In linea generale, io direi che la visione a livello internazionale è che la stabilità sta al di sopra di qualunque tipo di remora democratica, di qualunque tipo di richiesta democratica. Per tutti la priorità è la stabilità della regione, anche a discapito o anche al prezzo di dover ammettere, di dover sostenere un governo non democratico. Qui c'è anche in America Latina una grande discussione a livello politologico di come si potrebbe definire la situazione del Venezuela, perché è un autoritarismo competitivo, dove non c'è un partito unico, dove non c'è un dittatore chiaramente autoproclamato, come a capo di tutti i poteri pubblici dello Stato. Esistono partiti di opposizione, esiste una limitata libertà di stampa, esistono determinate condizioni che rendono il Venezuela una situazione piuttosto difficile da concepire, piuttosto difficile da definire, che è permanentemente in transito. Cioè l'analisi generale è che si tratta di una transizione permanente verso un autoritarismo pieno, che però non si compie mai. Ecco, questa è un po' la situazione che si sta vedendo in questo momento in Venezuela. E poi c'è un'altra questione fondamentale da comprendere a livello domestico. Al di là del fatto che effettivamente esiste una repressione molto forte nei confronti dell'opposizione, una situazione economica che diremmo catastrofica, esiste un sostegno da parte di un terzo almeno della popolazione nei confronti del chavismo che non è da sottovalutare. Sì, assolutamente, c'è effettivamente ancora il desiderio, forse il sogno, del ritorno all'epoca dorata dei primi anni di Chavez, quella che dicevamo all'inizio, quella in cui c'erano i grandi consumi, quella in cui il Venezuela si poteva sedere a livello internazionale ai tavoli della diplomazia mondiale e fare la voce grossa in certi casi, in cui il petrolio venezolano effettivamente dava al Venezuela un potere, una forza diplomatica molto interessante. Ecco, molti sognano ancora con quel Venezuela. Sì, ti interrompo proprio sul petrolio perché vedete appunto una carta del Venezuela petrolifero e queste sono carte un po' vecchie di Limes non aggiornate perché appunto da un po' non ci occupiamo di queste regioni, però una delle cose che c'era anche l'altra carta, il sogno di Chavez, tu hai ricordato questo momento diciamo della storia del Venezuela recente, però ecco la cosa che colpisce di più un disastro economico di questo paese che ricordiamo è ricco di petrolio, soprattutto poi in questa fase internazionale con la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente dove quindi un produttore di petrolio ovviamente avrebbe enormi vantaggi da questa situazione, ciò nonostante il Venezuela non riesce a sfruttare questa rendita petrolifera, anzi forse la rendita petrolifera è uno dei mali per il Venezuela, non so dimmi tu, cioè ovviamente per un non esperto di questa regione, di questi paesi sempre è una cosa paratossale. Sì, allora il Venezuela è il paese che detiene oggi il 17% delle riserve mondiali di petrolio, cioè è il paese che ha la maggior fetta di petrolio disponibile o che si conosce del mondo, e nonostante ciò rappresenta lo 0,8% del mercato internazionale di petrolio. È un tracollo della produzione petrolifera venezuelana che è iniziato giustamente a partire dagli anni 2010-2011 quando il Pedevesa, che è l'azienda statale petrolifera, è statale da molto prima di Chavez, si è l'azienda nazionale dal 76 se non mi sbaglio, praticamente fu caricata, fu sovraccaricata di debiti per poter sostenere la spesa del governo Chavez dedicata soprattutto al welfare. Chavez assume il potere nel 1998 con una Venezuela in una condizione, se oggi è disastrosa, in quel momento non lo era di più, ma era molto simile. Stiamo parlando di un paese dove la povertà era al di sopra del 60% della popolazione, la grande differenza è che produceva una ricchezza straordinaria che oggi non produce più. Allora il programma di Chavez era giustamente quello di finanziare un gigantesco programma di welfare per permettere giustamente la redistribuzione di quella ricchezza petrolifera che il paese stava esportando. Il progetto ha funzionato per alcuni anni fino al crollo dei prezzi di petrolio e ha una perdita molto molto grande di competitività da parte di PDVSA perché l'azienda petrolifera durante il periodo di di Chavez non è stata rinnovata dal punto di vista tecnologico, si è posto in molti casi il paradigma politico al di sopra di quello tecnico per cui molti tecnici sono stati sostituiti da dirigenti del chavismo fondamentalmente all'interno dell'azienda. PDVSA fino agli anni 80-90 era praticamente un quarto potere all'interno del sistema politico venezuelano. C'era il governo, c'era il Parlamento, c'era la magistratura e poi c'era PDVSA che era in qualche modo il potere economico del Venezuela. Ecco questa condizione, questa situazione è cambiata con la sottomissione giustamente della politica petrolifera alla volontà del governo. Si è arrivati ad un punto in cui PDVSA finanziava il 10% del PIL venezuelano che andava direttamente a programmi di welfare, andava direttamente a programmi sociali finanziati giustamente dal governo di Chavez. Quando nel 2014 il prezzo del barile di petrolio è crollato da oltre i 100 dollari ai poco più di 30, lì è incominciato ad essere un grosso problema per l'economia venezuelana. A questo si sono aggiunte ovviamente le sanzioni imposte sia dagli Stati Uniti sia dall'Unione Europea al governo venezuelano che hanno fatto che il Venezuela passasse da produrre praticamente un milione e mezzo di barili di petrolio al giorno a poco più di 300 mila durante il periodo più oscuro dell'economia venezuelana che coincide giustamente con l'amministrazione Trump. Trump ha innalzato il livello della pressione nei confronti del Venezuela al massimo. Le circostanze geopolitiche erano anche molto favorevoli in quel senso perché coincide con l'avvento di governi di destra in tutta l'America Latina Maurizio Macri in Argentina, Bolsonaro in Brasile, la Colombia sempre alleata, il Perù sempre alleato che hanno fatto una pressione molto molto grande sul governo di Maduro cercando anche di portare avanti direttamente tentativi espliciti di rovesciamento del governo Maduro. Maduro ha tenuto botta e però l'economia venezuelana è caduta nella situazione in cui ci ritroviamo oggi. Oggi, subito dopo l'allentamento delle sanzioni voluto dal governo Biden a partire giustamente dagli accordi che sono stati presi tra Caracas e Washington per sostituire in qualche modo il petrolio russo colpito giustamente dalle sanzioni dall'embargo imposto dagli Stati Uniti dopo l'invasione dell'Ucraina, il Venezuela è ritornato ad un livello relativamente accettabile di produzione. Stiamo parlando più o meno di 850 mila barilli di petrolio al giorno di cui 150 mila li produce Chevron, altri sono trasportati anche da altre imprese multinazionali come ad esempio Leni, che è una delle aziende a cui sono state sollevate le sanzioni nel caso della produzione venezuelana, o Repsol. Ora, rimane chiarissimo però che il Venezuela dipende dalle capacità tecniche, dalle capacità logistiche delle grandi imprese multinazionali del petrolio per poter risollevare la propria situazione. Questa è un po' la maledizione della monoproduzione di materie prime che ricade molto spesso su molti paesi latinoamericani, ma particolarmente in questo caso sul Venezuela, che ha favorito anche la crescita di un regime dove la concentrazione del potere è sempre più grande. Questo succede nella maggior parte dei paesi monoproduttori di petrolio al mondo, basti guardare al Golfo, dove le risorse fiscali provengono fondamentalmente da un'unica fonte. È molto semplice, è molto più facile creare un'elite che concentri man mano il proprio potere intorno giustamente a questa risorsa e alle ricchezze da essa prodotta e che con il tempo instauri un regime ogni volta più autocratico. Certo. Andiamo un po' a trattare le elezioni di quest'estate che sul canale non ce ne siamo occupati, ma te ne sei occupato sul sito di Limes. Io vi rimando al sito di Limes, abbonatevi perché gli abbonati digitali, oltre a leggere tutti gli articoli, quelli gratuiti e quelli del pagamento, possono anche consultare ovviamente tutta la rivista di Limes e i retrati. E tu in quest'articolo, subito dopo le elezioni, hai tratteggiato un ritratto della situazione venezuelana. Però partiamo dall'inizio. Come sei arrivati a quelle elezioni? Perché il processo che ha portato a quelle elezioni direi è molto importante. Poi parliamo delle elezioni. Allora, si tratta di un processo diplomatico che è stato effettivamente molto importante e che è il frutto del successivo fallimento dei tentativi di rovesciamento del regime da parte dell'opposizione. L'opposizione le ha provate tutte durante gli ultimi vent'anni in Venezuela. Il colpo di Stato del 2002, nuovi tentativi di colpi di Stato contro Maduro 2019-2020, l'operazione Gideon che è stata un'operazione che è stata anche abbastanza ridicola che cercava giustamente un'invasione da parte di mercenari finanziati in parte dagli Stati Uniti, in parte dall'opposizione venezuelana e che è finita veramente in una situazione piuttosto ridicola. Il tentativo di formare un governo parallelo con Juan Guaidó. Tutti i tentativi di rovesciare il governo di Maduro da parte dell'opposizione sono falliti miseramente. In buona parte giustamente per l'unità delle forze di sicurezza e le forze armate con il governo di cui parlavamo prima, in buona parte per l'appoggio e il sostegno di cui gode ancora il chavismo in Venezuela e pertanto si è cercato di arrivare ad una soluzione negoziata con una serie di incontri che sono iniziati in Messico, si sono conclusi poi alle Barbados, che hanno portato ad un accordo in cui il Venezuela, il governo di Maduro, otteneva un allentamento delle sanzioni da parte degli Stati Uniti a cambio di organizzare elezioni che potessero essere internazionalmente riconosciute come trasparenti. Per questo si è permesso all'opposizione di partecipare, che in realtà all'opposizione è sempre stato permesso di partecipare e la posizione dal 2005 in avanti ha sempre deciso di boicottare le elezioni allegando giustamente una mancanza di garanzie democratiche alla propria partecipazione. Quello che è successo poi dopo è che Maduro ha incominciato a storcere un pochettino il naso di fronte agli accordi di Barbados e a rivedere alcuni punti. Ad esempio, come dicevi tu all'inizio, proibendo alla principale candidata dell'opposizione, Corina Maciado, che durante gli ultimi vent'anni è stata la principale esponente della linea dura contro Chavez prima e Maduro poi. Corina Maciado direttamente insultava i leader dell'opposizione che sostenevano che l'opposizione doveva presentarsi unita alle elezioni nel 2013, ad esempio, e poi dopo nel 2018, dicendo che presentarsi alle elezioni era fondamentalmente un modo di legittimare il regime chavista. Adesso invece Corina Maciado, durante l'ultimo anno, soprattutto nel 2023, dopo un tour che ha fatto per tutto il Venezuela, presentandosi come la nuova leader dell'opposizione unificata, ha deciso di cambiare radicalmente la propria posizione e di presentarsi alle elezioni presidenziali. Nell'ottobre del 2003 la piattaforma unitaria, la coalizione di opposizione, ha realizzato un'elezione interna in cui Corina Maciado ha ottenuto una quantità di voti che il governo chiaramente non si aspettava. Sì, sono andati a votare, se non mi sbaglio, quasi 3 milioni di venezuelani, un numero veramente altissimo per la situazione in cui si trovava il Venezuela in quel momento, una bombilitazione politica dell'opposizione in attesa. Pertanto, poi dopo, il governo, in realtà la giustizia, che poi è strettamente legata alla volontà governativa, ha riesumato una vecchia condanna nei confronti di Corina Maciado quando partecipò a diverse manifestazioni considerate tentativi di golpe giustamente dalla Corte Suprema e impedì la candidatura di Maciado giustamente perché aveva una condanna da parte della Corte Suprema in anni precedenti. È lì che appare la figura di Gonzales Urrutia. Gonzales Urrutia è un diplomatico assolutamente intrascendente fino all'anno scorso nell'ambito delle discussioni dell'opposizione, cioè non si trattava di un politico, non si tratta di un politico riconosciuto come oppositore al ciavismo e così via, e giustamente essendo una figura, se si vuole, così debole, almeno dal punto di vista del governo, è stato l'unico che finalmente è stato accettato come candidato unitario dell'opposizione, ma con Corina Maciado dietro. La figura di Corina Maciado è molto importante sia per coloro che credono effettivamente nella possibilità di un cambio di regime guidato da Corina Maciado, sia per coloro come ad esempio il Brasile di Lula, vedono in Corina Maciado e nei leader dell'opposizione che in qualche modo rispondono a lei una minaccia o comunque un problema a lungo termine nel caso in cui effettivamente questo settore dell'opposizione venezuelana prendesse il potere. Perché si tratta veramente di una dirigente con posizioni ultra, di estrema destra, che almeno nel passato ha avuto una serie di espressioni che hanno preoccupato in più di un'occasione gli altri paesi latinoamericani. Si arrivava al punto in cui anche i liberali dicevano piuttosto che questa destra, la destra del golpe del 2002, mi tengo Chavez, per darvi un po' un'idea. Ecco, per cui anche la figura di Corina Maciado è di per sé controversa. Ora, ha costruito effettivamente una leadership che oggi è indiscussa all'interno dell'opposizione. Non ci sono altri leader capaci di oscurare la figura di Corina Maciado, a tal punto che quello che se n'è andato in esilio è Gonzales Urrutia, che in questo momento è in Spagna, e Corina Maciado invece è in clandestinità, non si sa dove si trova, però lei ogni tanto pubblica messaggi in cui sostiene di trovarsi ancora in Venezuela. E proprio per questo lei rimane, perché effettivamente è lei un po' l'anima di questo movimento che ha alimentato l'elezione del 28 luglio. Ed è lei quella che ha organizzato la strategia posteriore. Subito dopo le elezioni, abbiamo visto sicuramente i lettori, e le elettrici di Dimes hanno potuto vedere come in varie zone del paese si sono sviluppate grandi manifestazioni a sostegno del risultato presentato dall'opposizione. Secondo l'opposizione, il risultato reale dell'elezione è praticamente inverso a quello che ha presentato il CNE, il Consiglio Nazionale Elettorale. Più o meno sarebbe un 70% a favore di Gonzales Urrutia e un 30% a favore di Maduro. E hanno anche apportato una serie di documenti, registri elettorali che i testimoni dell'opposizione hanno raccolto nei differenti seggi lo stesso 28 luglio. E questo ha portato moltissima gente in piazza. Sono state settimane di fortissima repressione, di manifestazioni, in molti casi molto violente. Si credeva effettivamente nella possibilità di una transizione non accordata, nella possibilità che Maduro effettivamente accettasse di lasciare il potere. Alcuni parlavano addirittura di telefonate da parte di Diaz Canel e il presidente cubano e di Vladimir Putin che offrivano asilo a Nicolás Maduro durante quelle settimane. Ma l'unità che si è stabilita con le forze armate effettivamente ha permesso a Maduro di riprendere il controllo del paese. L'opposizione ha modificato la propria strategia, una strategia di mobilitazioni a sciame sarebbe un po' la traduzione di quello che ha organizzato Corina Maciado a partire da quel momento che però in questo momento chiaramente sono rientrati. L'emergenza perlomeno sembra essere rientrata. la mobilitazione non è assolutamente così forte ed estesa come lo è stata nei primi giorni di agosto e come vi dicevo quello che si aspetta è quale sarà la forma che prenderà la nuova stabilità venezuelana. Se si assomiglierà di più a un modello nicaraguense ad esempio il Nicaragua di Ortega cioè un isolamento internazionale totale la rottura dei ponti anche con i propri alleati storici Ortega ha di fatto rotto relazioni con il Brasile da poco per esempio o se cercherà Maduro di mantenersi all'interno di una piattaforma internazionale una piattaforma diplomatica capace ancora di negoziare per esempio con Washington o con altri poteri latinoamericani questo è un po' il dubbio che rimane ora ma sulla continuità di Maduro al potere credo che non ci siano perlomeno nel mediano termine non ci siano veramente grandi dubbi Allora il quadro interno mi sembra chiarissimo grazie passiamo un po' alla dimensione regionale tu un po' hai accennato agli Stati Uniti e agli altri paesi perché allora un po' le relazioni con gli Stati Uniti sono ovviamente importanti fondamentali per le sanzioni però c'è anche un altro argomento uno degli elementi della crisi veneziana di questi anni è anche la forte immigrazione che c'è stata dal paese sia per motivi politici sia per motivi economici ovviamente una parte di questa immigrazione si è diretta agli Stati Uniti dove il tema dell'immigrazione è anche tema di campagna elettorale quindi ti chiedo se nelle relazioni con gli Stati Uniti anche le prossime elezioni insomma se dal punto di vista del Venezuela ma anche dell'intera Sud America direi in generale l'eventuale nuovo presidente americano insomma che cosa sta producendo e poi invece c'è la dimensione regionale del Sud America dove appunto Brasile Argentina intanto c'è un Sud America già diviso per conto suo e questo insomma che effetti ha nella dimensione regionale appunto del Venezuela a livello della relazione con gli Stati Uniti credo che la grande discussione il grande dibattito sta nelle due posizioni che rappresentano un po' Kamala Harris o comunque l'amministrazione Biden e invece la posizione repubblicana di Donald Trump Harris sembrerebbe voler dare continuità alla dottrina Biden di normalizzare in qualche modo le relazioni con il Venezuela o come è stato fatto subito dopo le elezioni del 28 luglio direttamente di dare in appalto la posizione degli Stati Uniti sul Venezuela ad altri leader come ha fatto di fatto Joe Biden con Gustavo Petro il presidente della Colombia e Lula da Silva nei primissimi giorni subito dopo l'elezione del 28 luglio in cui praticamente hanno incominciato a pubblicare comunicati congiunti soprattutto Lula e Biden intorno alla preoccupazione che entrambi mantenevano per la situazione della democrazia la situazione del rispetto dei diritti umani in Venezuela ora a Biden non conviene in nessun modo innalzare la tensione col Venezuela e soprattutto reintrodurre sanzioni forti meno in questo momento meno in piena campagna elettorale per l'esperienza che hanno avuto gli Stati Uniti con le sanzioni e con la massima tensione voluta da Donald Trump ciò che hanno provocato è stato chiaramente un avvicinamento ancora più solido ancora più forte di Caracas ai nemici geostrategici i rivali geostrategici degli Stati Uniti che sono fondamentalmente Iran Russia e Cina addirittura i grossi problemi relativi all'industria del petrolio venezuelano hanno fatto che per la prima volta due portaerei due grandi navi iraniane siano sbarcate a Caracas per dar manforte per poter rifornire di petrolio il Venezuela che si trovava in seri problemi per poterlo estrarre per proprio conto a causa delle sanzioni imposte proprio da Washington per gli Stati Uniti avere navi russe navi iraniane nel porto nei porti venezuelani a praticamente nel giardino di casa nel famoso giardino di casa non conviene in nessun modo per cui l'idea di abbassare la tensione con il Venezuela risponde in qualche modo a questa necessità oltre al bisogno concreto e reale di poter importare petrolio dall'aprile dell'anno scorso a oggi il Venezuela si è trasformato nel terzo fornitore di petrolio degli Stati Uniti cioè ha sorpassato l'Arabia Saudita per dare un'idea che è un alleato strategico degli Stati Uniti per cui stiamo parlando di una situazione poco semplice ora dal punto di vista dei repubblicani e ci sono di fatto all'interno della Camera dei rappresentanti progetti già presentati per riemporre sanzioni durissime nei confronti nei confronti di Venezuela la possibile elezione di Donald Trump chiaramente apre aprirebbe un altro scenario per il Venezuela io credo che in Venezuela come in tutta l'America Latina c'è un'aspettativa molto molto grande proprio per vedere quale sarà la politica estera degli Stati Uniti a partire dal gennaio del 2025 tu nominavi gli altri gli altri paesi sudamericani io credo che i paesi più coinvolti nella crisi venezuelana sono sicuramente Colombia e Brasile per diverse ragioni nel caso della Colombia è il paese che ha ospitato il maggior numero di rifugiati venezuelani durante gli ultimi anni ci sono 7,7 milioni di venezuelani che vivono fuori dalle frontiere nazionali è il paese con la maggior quantità di rifugiati del mondo ha più rifugiati della Siria e non è un paese che ha vissuto una guerra cioè una situazione quella dell'emigrazione della diaspora venezuelana molto molto complessa e in America Latina è chiaramente un grosso problema diplomatico ed è un grosso problema sociale l'emigrazione venezuelana in Colombia più che in qualsiasi altro paese dell'America Latina la Colombia poi ha un altro interesse molto importante per la stabilità del Venezuela Gustavo Petro è il primo presidente di sinistra della storia della Colombia ha presentato un programma molto molto ambizioso che è il programma della pace totale che aspira a poter disarmare e pacificare tutti i gruppi armati attivi in Colombia dalle diciamo dalle guerriglie la più importante attiva in questo momento è l'Eccersito di Liberazione Nazionale LN a i gruppi narcos attivi in diverse parti della zona est della Colombia proprio a ridosso della frontiera col Venezuela il Venezuela negli ultimi vent'anni si è trasformato in un territorio giustamente a causa dell'incapacità amministrativa delle autorità venezuelane si è trasformato in un territorio rifugio per molti di queste molte di queste organizzazioni una destabilizzazione del Venezuela o peggio ancora una presa di potere da parte di settori come quello di Corina Maciado significherebbe dall'altra parte della frontiera il ritorno ad una politica di tolleranza zero e di guerra aperta nei confronti di questo tipo di organizzazione che porterebbero a una destabilizzazione su entrambe parti della frontiera proprio quando il governo di Petro sta puntando forte a pacificare completamente questa zona anche a costo di fare ampie concessioni a questo tipo di organizzazioni dall'altra parte il Brasile in questo momento dopo il ritorno di Lula punta chiaramente a ritornare ad essere un global player di una certa importanza di un certo vigore ricordiamo che a novembre per esempio si svolgerà il G20 a Rio de Janeiro l'anno prossimo ci sarà anche la COP in Brasile Lula ha addirittura provato a presentare proposte di mediazione e di accordi di pace ad essere garante di un accordo di pace sia nel caso ucraniano sia nel caso israelo-palestinese sta cercando effettivamente di mostrare il Brasile come una delle potenze che gioca sullo scacchieri internazionale non si può permettere Lula di dover affrontare uno smacco in qualche modo alla propria leadership nella regione di cui lui si propone portavoce Lula in questo momento sotto questo punto di vista ha due grandi problemi uno è il Venezuela e l'altro è Haiti di cui sicuramente parleremo più avanti in un'altra in un'altra occasione ma sono due situazioni in America Latina di destabilizzazione molto molto gravi in cui Lula non sta potendo mostrare la propria leadership nel caso di Haiti direttamente sta guardando un'altra parte cioè il Brasile non partecipa nemmeno all'interno delle forze internazionali volute della ONU e guidate e guidate dal Kenya nel caso del Venezuela sta cercando di mantenere una situazione una posizione abbastanza ambigua non riconosce la vittoria di Maduro alle elezioni del 28 luglio ma non dice nemmeno che si tratta di una dittatura che bisogna isolare dal sistema interamericano temporeggia sì temporeggia altri presidenti anche a sinistra come ad esempio Boric direttamente hanno tagliato le relazioni diplomatiche con Caracas dopo l'autoproclamazione di Maduro come presidente nel caso del Brasile invece si gioca veramente una carta molto importante per non parlare poi di un fattore geopolitico che è straordinariamente importante il Brasile a 1600 chilometri di frontiera con il Venezuela e tra Brasile e Venezuela c'è la Guayana dove il il Venezuela ha una rivendicazione territoriale gigantesca nell'Esequibo sì che è una regione che rappresenta quasi due terzi del territorio della Guayana e che è rivendicata territorialmente dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela ancora prima del chavismo è una è una richiesta storica del del Venezuela e il Brasile condivide frontiera con entrambi i paesi pertanto vuole evitare ad ogni costo una scalata del conflitto del conflitto dell'Esequibo che Maduro ha già posto sul tavolo prima delle elezioni del 28 luglio Maduro ha organizzato un referendum in cui ha chiesto effettivamente alla popolazione se considera l'Esequibo parte integrante del territorio venezuelano occupato da una da una forza straniera in questo caso la Repubblica Cooperativa della Guayana ed effettivamente ha vinto in quel referendum perché è una causa nazionale che trascende la posizione politica del chavismo quindi anche lì c'è un possibile conflitto alle porte del Brasile che Lula deve cercare di disattivare ad ogni costo Allora grazie grazie a Federico e poi ovviamente dovremo parlare appena possibile di Haiti ma anche dell'Argentina di Milei perché insomma un po' di quei siti da porti proprio sull'Argentina che ricordo il paese dove vivi tra l'altro complimenti per il tuo splendido italiano con qualche appunto assonanza spagnola anzi lo dico giusto per essere chiari tu si come intercalare spesso giustamente che in italiano gli diamo un valore un valore un giudizio di valore legato a giustamente che però non c'è immagino sia un'infrazione nello spagnolo infatti lo dico perché c'è una minoranza ovviamente di lettori e spettatori che sta lì invece di cercare insomma di analizzare e capire sta lì per capire se noi siamo pro maduro contro maduro per fare il tifo eccetera quindi magari questa cosa può creare un po' di confusione in alcuni ecco infatti insomma giustamente non era un giudizio di valore ecco allora grazie ti dico grazie grazie per la tua chiarezza veramente complimenti e niente come diciamo sempre alla prossima perché poi avremo altre occasioni per occuparci di queste questioni grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti